Emozioni sposi, uno dei più ambiti atelier di alta moda torinesi, veste la sposa, lo sposo e la cerimonia, per mamme, testimoni ed invitati. All'interno dello showroom di Via Don Bosco 11 a Torino, è possibile ammirare un'ampia serie di collezioni di abiti da sposa delle più importanti griffo made in Italy, come Valentini Spose ed Ego Spose, con le quali l'equipe di emozioni collabora anche stilisticamente. L'atelier gode di un'ampia ed attrezzata sartoria interna, con personale specializzato nel settore, che può garantire una messa a punto del capo, dal momento della prima prova alla consegna. Altrettanta importanza d'attenzione, viene riservata allo sposo, che indosserà capi firmati palzi levi, fiori all'occhiello, della tradizione sartoriale italiana. Emozioni sposi, il sinonimo della qualità e della professionalità, che veste l'amore. Grazie Grazie